Non c'è niente di meglio che sorprendere le persone che amiamo con un gesto d'affetto inaspettato, e la storia di oggi parla di una sorpresa davvero fuori dall'ordinario. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Di solito le persone tendono a calmarsi con l'età, anche se i tuoi giorni al college potrebbero essere stati pieni di bevute, serati con gli amici, feste e avventure di ogni genere, probabilmente col tempo le cose si sono calmate dopo. Quando raggiungi una certa età la vita è piuttosto tranquilla e monotona ed è fatta principalmente di comodità e famiglia, almeno per la maggior parte delle persone. Ma Simone Diumò sicuramente non è come la maggior parte delle persone. Simone è una nonna di Augusta, nello stato americano del Maine. Stava festeggiando il suo novantatresimo compleanno, quando ha sentito bussare inaspettatamente alla porta. Sembrava che il dipartimento di polizia locale avesse ricevuto una soffiata proprio sulla festeggiata e ora gli agenti dovevano parlare con lei immediatamente. Ma cosa poteva essere successo? Cosa poteva aver fatto questa adorabile vecchietta? Più si avvicinava il giorno del suo compleanno, più Anne, la figlia di Simone, si spremeva le meningi per festeggiare il compleanno della madre nel miglior modo possibile. Aveva bisogno di escogitare un piano speciale per assicurarsi che questo compleanno sarebbe stato uno da ricordare. Simone era una donna semplice. Ora che era in pensione, la maggior parte del suo tempo era dedicata alla sua famiglia, in particolare al suo sempre in crescita gruppo di nipoti, con cui si divertiva da matti. Oltre a passare del tempo con la sua famiglia, c'era un altro dettaglio indispensabile nella routine quotidiana di Simone. Alla fine della giornata amava sistemarsi sulla poltrona, alzare le gambe e guardare un po' di tv. Ed è stato proprio questo a dare ad Anne l'idea perfetta per rendere quel novantatreesimo compleanno davvero, davvero speciale. Quando arrivò il giorno della festa, Anne non era in seda l'eccitazione, non vedeva l'ora di rivelare la sua grande sorpresa. Con tutti gli ospiti a casa, intenti a chiacchierare e fargli gli auguri, all'improvviso Simone sentì bussare alla porta. Guardò fuori, confusa, non aspettava nessun altro che poteva mai essere. Si diresse verso l'ingresso e aprì la porta. A quel punto la sua mascella si schiantò al suolo. Erano gli agenti di polizia da Augusta e volevano parlare con lei. Con un'espressione accigliata, i poliziotti chiesero a Simone di uscire. A quanto pare avevano ricevuto una soffiata su di lei e dovevano portarla via. La terribile gravità della situazione colpì Simone. Non poteva credere che stesse accadendo, soprattutto il giorno del suo compleanno. Poi, lentamente, qualcosa in lei scattò e le sue emozioni presero una svolta drastica. Simone ha visto l'auto della polizia parcheggiata fuori e ha iniziato a sorridere. Contro ogni previsione, la nonnina era elettrizzata. Era esattamente così che voleva festeggiare il suo novantatresimo compleanno. Ed ora aveva stampato in faccia un enorme sorriso. Che sorpresa incredibile che l'aveva organizzato sua figlia. Durante una delle sue interminabili sessioni di brainstorming, Anne si era resa conto che sua madre amava guardare programmi televisivi come Cops o America's Most Wanted. E questo le ha dato un'idea. Avrebbe portato Simone in un episodio costruito su misura per lei. E con sua grande sorpresa, Anne aveva anche scoperto che per il dipartimento di polizia la sua richiesta non era così insolita. In effetti, al di là del loro lavoro standard di applicazione della legge, il dipartimento di polizia di Augusta era famoso per l'impegno che metteva sempre nell'aiutare la sua comunità. E questo comprendeva anche ufficiali in buffi costumi che organizzavano sorprese alle feste di compleanno. Certo, in quei casi gli invitati erano per lo più bambini. Ma la proposta di Anne e il gesto che voleva fare per sua madre gli aveva scaldato il cuore. Come potevano dire di no a quella dolce vecchietta così affamata di avventura? Davanti agli ufficiali, Simone ha deciso di soddisfare la loro richiesta in silenzio. In fin dei conti, grazie a tutti i programmi che aveva guardato, sapeva che era meglio non resistere all'arresto. I poliziotti l'ascoltarono verso la volante, parcheggiata nel vialetto, e la fecero sistemare sul sedile posteriore. Simone si divertiva da matti a partecipare a quell'episodio poliziesco tutto per lei, ma non sapeva che le sorprese non erano ancora finite. Con sua grande gioia, seduta nella volante della polizia, Simone poteva vedere da vicino alcuni degli strumenti del mestiere degli ufficiali che aveva visto in televisione, e sicuramente erano molto più interessanti così piuttosto che quando si è davvero sotto arresto. Gli agenti le fecero vedere il loro computer ed altre apparecchiature di comunicazione, e a quel punto Simone, entusiasta, azzardò con cautela una richiesta particolare. I poliziotti sorrisero e annuirono, e a quel punto Simone si avvicinò a un grande pulsante sul cruscotto. Lo premette, e all'improvviso la sirena del veicolo si accese e iniziò a suonare. È stato davvero un sogno divenuto realtà per una donna che amava così tanto le trasmissioni e i film polizieschi. Poi Simone scese dalla macchina e fece agli agenti un ultima richiesta. Voleva parlare con loro alcuni minuti prima che andassero via. E come potevano dirle di no? Simone era emozionata. Questa era la sua occasione per condividere con gli agenti ciò che pensava di loro e del loro lavoro. Una convinzione che aveva sempre sostenuto fermamente e in cui credeva con tutta se stessa. Il motivo per cui a Simone piacevano così tanto la polizia e le forze dell'ordine in generale era il fatto che aveva sempre ammirato il loro lavoro. La festeggiata ha detto agli agenti di polizia che ammirava profondamente il loro lavoro impegnativo e pericoloso. E quello che ha condiviso con la polizia è stato ancora più toccante. La donna sentiva che gli agenti di polizia non ricevevano abbastanza apprezzamenti per i compiti che svolgono con coraggio ogni singolo giorno. Simone si è finalmente sentita realizzata dopo aver condiviso il suo messaggio. Era qualcosa che voleva dire da molto tempo ma non aveva mai avuto l'opportunità per farlo. E invece il suo novantatresimo compleanno si rivelò una fantastica opportunità. Gli ufficiali hanno apprezzato i suoi sentimenti e l'hanno ringraziata. Poi, tenendola per mano, annunciarono di avere un ultimo regalo di addio per lei. Dopotutto era il suo compleanno e fino a quel momento non avevano fatto altro che arrestarla. Simone era emozionata e nervosa allo stesso tempo. Comprensibilmente, la donna non sapeva cos'altro aspettarsi a quel punto. Quel giorno Simone ha ricevuto il regalo più bello di tutta la sua vita. Un distintivo che la rendeva un ufficiale di polizia junior. Non solo stava festeggiando con la sua amata famiglia, ma ora era anche stata nominata a un ufficiale di polizia junior e doveva tutto alla sua premurosa figlia, Anne. Anne, d'altra parte, era davvero a corto di parole quando Simone la ringraziò con le lacrime agli occhi. Le aveva promesso di rendere il suo sogno realtà. Aveva dato a sua madre, che ormai aveva fatto e visto tutto, l'opportunità di raggiungere uno dei suoi obiettivi di una vita e di farla sentire speciale per il suo compleanno. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video, alla prossima storia, ciao! Grazie! Grazie!